partitissime con botte polemiche espulsioni il mostruoso vantaggio del napoli più 19 sulla lazio prelude a una conclusione anticipata della corsa allo scudetto la capolista a torino vinceva con il ventesimo gol di osimen poi dopo un palo di sanabria varaschelia ha raddoppiato sul rigore il napoli ne ha fatti altri due osimen doppietta a quota 21 il derby del cupolone è finito con la vittoria bianco celeste gol di zaccagni su una roma in dieci espulso i bagnet polemica lotito murigno la juve ha vinto a san siro contro un inter rondivaga gol di kostic non ha sconfitta nerazzurra proteste per umane di rabbiò l'atalanta vittoriosa rimonta sull'empoli dopo lungo digiuno la dea in corsa per la champions luginese e la squadra di pioli sono tornati al passato i friulani hanno ripreso a vincere come ad inizio stagione i rossoneri privi di girù e hernandez hanno ripreso a subire gol inutile rigore segnato da ibrahimovic un record per nonni bel pareggio tra salernitana e bologna squadra in progresso nella corsa per l'europa passi importanti del sassuolo vittorioso contro lo spezia la fiorentina con la settima vittoria coppe comprese si è riproposta mentre torino e monza hanno rallentato in coda lecce empoli salernitana e spezia hanno un margine sufficiente sul verona terz'ultimo la squadra scaligera è stata abbattuta dalla samp doppietta di gabbiadini in difficoltà oltre alla sandoria anche la cremonese ora la pausa azzurra per vincini la novità retegui un oriundo argentino con la rete incorporata nel cognome retegui appunto è stato un po' di 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 un po'